Continuano a terra i lavori sugli edifici scolastici, 2 milioni e 450 mila euro l'importo totale, a che punto stiamo? Sì, come ha detto lei, non ci fermiamo per quanto riguarda l'edilizia scolastica, grazie anche ai finanziamenti che abbiamo avuto sia a livello regionale che a livello del governo centrale. Per l'appunto abbiamo ottenuto in questo ultimo anno e mezzo 2 milioni e 450 che ci hanno permesso di ristrutturare diversi edifici scolastici e altri da ristrutturare in seguito, non appena abbiamo espletato la gara d'appalto e dunque la progettazione esecutiva. Stiamo lavorando su diversi edifici scolastici, mi riferisco ad Alessandro, la Zippilli, la Noeluce dove stiamo facendo l'antincendio, prossimamente la scuola che oggi abbiamo riaperto di Piano Daccio. Si sta lavorando anche sulla palestra della Noeluce che è un'altra struttura importante che da anni non ha avuto mai degli interventi sia strutturali che a livello impiantistico, dunque abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento di 70 mila euro che ci permetterà di mettere la norma in maniera integrale. Stiamo lavorando tantissimo sulle scuole, il patrimonio edilizio scolastico, noi abbiamo 52 scuole che per anni non hanno mai avuto interventi, dunque si sta lavorando tantissimo per cercare di mettere a norma quasi tutti gli edifici scolastici sia dal punto di vista sismo che normativa dell'impianto elettrico antincendio.